O Gesù Crucifisso, per intercessione della Beata Vergine addolorata, concedimi una profonda compassione ai tuoi dolori, un vivo pentimento dei miei peccati e le aggrazie di amarti per sempre. Prima occasione, Gesù è condannato a morte. O Gesù, per casa mia, che è condannato a morte, mi penso delle mie colpe, abbia misericordia di noi e del mondo intero. Domenico Lutente, buona Pasqua a tutti. Seconda stazione, Gesù è caricato della croce. O Gesù, tu hai portato la croce con tanto amore per me. Che pure io porti sempre la mia per l'amore tuo. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Barbara Marchio Alla stazione terza Gesù, caro per la prima volta, o Gesù mi è caduto sotto la croce, dammi la grazia di non cadere nel peccato. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Allora, ma la scuola ti inizio. Quarta stazione Gesù incontra la sua Santissima Madre. O Gesù addolorato per le sofferenze di Maria. In tutte le pene insegnami a rivolgermi a lei con amore. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Miriam Marita, buona Dio. Quinta stazione Gesù è aiutato al Cineo. O Gesù, io pure ti sia compagno nel potere la croce del dovere e dell'adesità. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Luizito Pasquozi Sesta stazione Veronica asciuga il volto di Gesù. O Gesù, imprimi anche nella mia anima l'immagine straziata del tuo volto. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Carla Portobonacci Settima stazione Gesù cade la seconda volta O Gesù, preservarmi dalla ricaduta e farmi preservare nel bene abbia misericordia di noi e del mondo intero. Maria Pasquozi E Gabriele Prestia Ottava stazione Gesù, consola le vie donne piangenti. O Gesù, ti domando vivo dolore dei miei peccati e compassione per i peccatori. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Ero Maria Pasquozi Pasquale Pasquozi Pasquale Pasquozi E Angela Pasquozi Nona stazione Gesù, spogliato dalle sue vesti O Gesù, concedimi di amare la modestia e la temperanza. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Francesco e Silvana Bova Decima stazione Gesù, spogliato dalle sue veste. O Gesù, concedimi di amare la modestia e la temperanza. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Una Maria Un dicesima stazione Gesù è incriudato sulla croce. O Gesù, voglio concifiggere il mio corpo. Le sue passioni e con i suoi cattivi desideri. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Teresa Abitonti Dodicesima stazione Gesù, muore in croce. O Gesù, per la tua morte. O Gesù, possa anche io spirare nelle mani del Padre. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Raffaele Fazio Dodicesima stazione Gesù, disposto dalla croce. O Gesù, per la tua morte. O Gesù, assissimi con la tua grazia perché non abbia rinnovato il corpo e cattolo la tua passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Barci Jessica Batorogesima stazione Gesù ti è posto nel sepolcro nonno per mettere. O Gesù, che mi insepare mai da te sulla terra per poter essere eternamente unito a te in cielo. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Giovanna Calgiuri